Un caro saluto da Diego Fusaro. Il testo del quale vorrei celermente parlarvi oggi è un testo scritto da Ivan Rizzi con Francesco Cetta e intitolato La solitudine del dolore, un sogno al posto della paura. Il libro è edito da Rubettino, Soveria Mannelli 2021. Vi mostro La copertina è un libro che si occupa del più grande rimosso del nostro tempo, come lo chiama Ivan Rizzi. Il libro è dedicato all'ipotesi di umanizzazione del dolore estremo, cioè di una sua denaturalizzazione. Il dolore, che sembra prima facie una questione puramente naturale, biologica, chiede di essere umanizzato. Ecco perché l'autore, con il contributo anche di Francesco Cetta, prova a ragionare sul dolore nel tempo che, potremmo dire, cerca di rimuoverlo in ogni modo. Una società algofobica, come è stata anche definita, che ha paura del dolore e che deve rimuoverlo in ogni modo, di modo che regna ovunque, sempre solo lo spensierato godimento a forma di merce. Che ne è del dolore allora nell'epoca della tecnica? Che cos'è il dolore in questo tempo che prova a rimuovere completamente il dolore? Ecco, queste pagine sono una riflessione pungente, acuta, sul tema del dolore che viene affrontato su un piano squisitamente teoretico e laico, senza tuttavia nascondere un anelito di trascendenza senza religione, se vogliamo definirla così, una trascendenza di tipo etico, come potremmo altresì chiamarla. Un libro davvero che merita di essere letto perché è tale da affrontare il problema del dolore da un punto di vista laterale, se vogliamo dire così, rispetto ai modi più convenzionali e collaudati con cui esso viene affrontato. Il libro si apre con la seguente riflessione. In un giardino che pare una grande stanza priva di soffitto scendono lentamente fiocchi di neve. Sedute su una panca di marmo, due persone viste di spalle sembrano fissare senza vedere un affresco sullo sfondo, mentre il colore rosso pompeiano sulla parete via via si stempera in un rosa pallido nel filtro della cortina di neve cadente. La scena austera è composta, tutto è come in attesa di qualcosa di fatale già scritto nelle cose. Le sequenze del satiricon di Federico Fellini ci dicono che si tratta di coniugi dell'antico impero che si preparano al suicidio in una lenta progressione fino alla stasi di un fermo immagine dei due corpi senza vita. Naturalmente l'episodio è la chiusura di tutti gli orizzonti del divenire, la parte invalicabile che interrompe ogni coscienza. Ivan Rizzi con Francesco Cetta, La solitudine del dolore, un sogno al posto della paura. Davvero un libro degno di essere letto e meditato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.